È stato un campionato un po' particolare, abbiamo avuto un po' di problemi per quanto riguarda i ragazzi perché molte volte sono stati assenti a causa università, a causa impegni universitari però pensiamo che possa essere la nostra occasione per far bene e per arrivare fino alla fine. Grazie per la visione Grazie a tutti Peccato per oggi, puntavamo a vincere e alla fine abbiamo ottenuto una sconfitta amara perché meno male ci siamo giocata bene sul campo, sono stati un paio di episodi che ci hanno penalizzato la nostra occasione l'abbiamo avuto e non l'abbiamo sfruttata al 100% e il risultato è stata una sconfitta purtroppo. Il campionato è stato molto deludente anche se le ultime prestazioni hanno fatto vedere che comunque siamo diventati un po' più squadra rispetto all'inizio e eravamo tutti in un gruppo nuovo quindi è stato normale, secondo me è stato l'esordio per noi e cercheremo di far mangiare sicuramente in gruppa. Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti